Pasquale, ciao Carmela, come stai, come va, tutto bene, eh, ho detto come va, tutto a posto Pasquale, si, si, ora sto andando a posto, si, si, senti Pasquale, come va col nuovo apparecchio acustico, eh, come va col nuovo apparecchio acustico, funziona? Ah, si, le undici e mezzo, senti Pasquale, salutami tanto tua moglie, Teresa, si, ora sto andando a fare la spesa, ora, 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 va bene, beh, ciao Pasquale, ciao Carmela, ciao, ciao, si, la spesa vado a fare, mi ha scritto Ecco, znamo, eh, di scaccio, di noc, di maronche, di baderi, eh, epa.